Me la vedo io qua, me la vedo io! Cosa ragazzi, un uomo di battaglia! Possiamo bere? Dai ragazzi! Uomini! Cosa ragazzi, un uomo di battaglia! Non ci fate paura! Non teniamo un cazzo! Non teniamo! Cosa, un uomo di battaglia! Eeeh! E qua devo fare più! Anna, devo fare più! Non li teniamo! Ma voglio farli arrivare! Dove sono gli uomini? No, no, no! No, no, no! Dai, uno, due! Uuuu! 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 Quali team hanno nuove persone? quindi squadra 1 donne 2 donne 1 donne e 2 donne ok chi più? 9 persone che numero? 7 ok ragazzi siamo a 10 giorni siamo a 9 aspetta, andiamoci 1, 2, 3 no vabbè allora signori passiamo alla prima prova tiriamo fuori le uova le uova a tutti il nostro pinaggio è il nastro rosso tirateli fuori lo spago no segnalotta 1 mettiamo di questa le uova le prendete le mettete nello strofinaccio ok? mettete le uova nello strofinaccio lo strofinaccio è enorme con il nostro spago legheremo le estremità dello strofinaccio cioè faremo un nodo lo chiuderemo ok? lo chiudiamo semplicemente mettete le uova nello strofinaccio e chiudete con il vostro spago o nastro ok? chiaro? strofinaccio strofinaccio in bocca formerete tutti stavo dicendo formerete dei tunnel ok? passerete uno da sotto all'altro a tutti i compagni dovete spisciare se avete fatto delle OCR avete fatto sicuramente il filo spinato siete abituati quindi si forma un unico tunnel il primo passa sotto tutti i compagni arriva alla fine del tunnel si mette anche lui a formare il tunnel e va l'altro la squadra che arriva prima dove saremo noi e ritorna qui al vostro tronco vince sempre nello stesso modo il ritorno si sempre nello stesso modo voglio tutto così di Zaini di Zaini lasciate tutto qui ok che stavo dicendo la squadra che arriva prima vince prima contro il campo è giunto oh la contro il campo raga no no tu 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 sta con la bebe con la bebe bebe no qui tu ti silenzio 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 allora il vostro minaccio va in bocca tutto il tempo ok ti prego si passa sotto i compagni sia all'andata via ritorno ok chiaro la uno via 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 forza via 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 via! 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 spetta troppo di scatto spetta vai! spetta il primo deve aspettare vedi la ha già due le state ragazzi dovete aspettare il primo che arriva forza vedete di qua ragazzi arriva la legna vai venite più avanti vai più avanti ragazze state andando in questa situazione venite più avanti più avanti più avanti più avanti vieni più avanti vieni qua vieni via penso che vi allargate no aspetta vai! 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 aspetta che arriva ragazzi ragazzi state andando state perdendo di quanto? forza dovete stringere vai con quando sto devono stringere vai con in 1 c'è vieni dietro vieni dietro non ci stanno ci siamo noi che ci prendiamo vai! 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 Non capirete! Non allargate! Non allargate! Vai cinque, vai! Vai! Vamos! Vai! 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 bravo 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 vai tutta la squadra deve superare non vi allargate guarda stiamo avanti se nonCi avevo sbagliato io nonTi spero non mi vede vai no mangelo loro sono arrivati Grazie Grazie Dai, dai, dai Due per volta, due per volta, dai Torna, torna 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 Corna No Ragazzi, che bello per voi Dai 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 Corarsa Giù Vai, vai Vai Già! Sì! 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 GANDE! Uuuuh! Sì! Grazie. 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 Valentina d'oste, Valentina. Mi hai rotto le pova, Natale. Cosa è passeggiata? Bim! Pam, pam!